hola fioi bentornati o benvenuti nel mio canale allora allora sono proprio contento che inizia a esserci gente che guarda i miei video che guarda i miei video però la maggior parte inizia a commentare persone haters iniziano a esserci anche gli haters oppure non lo so ragazzini che mi commentano sotto i video scrivendo ad esempio vergognati hai 50 anni e ti metti a fare video su youtube bene buona prospettiva grazie grazie perfetto ok bella prospettiva ok va bene comunque va bene a me a me piace vedere cosa che scrive mi piace vedere cosa che scrive per rendermi conto in che mondo vivemo in che mondo vivemo perché ragazzi mi piace anche scrivere risposte sotto i video però c'è poca gente che me che me commenta e ragazzi ragazzi haters haters venite avanti c'è posto venite avanti c'è posto nel mio canale c'è posto c'è cerco di farmi iscritti cerco di farmi iscritti avanti avanti c'è posto haters ragazzini dai non faccio per prendermi in giro però dai un po di un po di un po di community serve serve anche questo ragazzi serve anche questo allora chiedo la prentesi iniziamo con il video allora caso ronaldo perché se perché per paura che non se ne parla caso ronaldo ragazzi e ora ronaldo un caso un caso disperato un caso disperato è meglio è meglio dei casi di barbara d'urso che è meglio è manco è manco la non che sei tanto non che sei tanto a parlare ragazzi ragazzi abbiamo sempre problemi abbiamo sempre problemi con sta juve sempre sempre adesso il caso ronaldo ronaldo perché non gioca e perché quando viene quando viene levato via da sardi deve arrabbiato è arrabbiato ciò è bisogna che che gioca 90 minuti a ogni partita perché sennò non sei contento e ragazzi ma non non sei niente non sei niente non sei niente colpa di sardi perché sardi non c'è colpa non c'è colpa sardi perché è il comando sardi non è il comando ronaldo è il comando sardi appunto ma se ronaldo se ronaldo è il sente è il sente che non non è affa che c'è un problema che c'è un qualcosa che non torna il che ha bisogno di riposo di avere un pochettino un pochettino di riposare ragazzi ma 34 anni dovuto che va ragazzi vabbè può essere il più forte giocatore del mondo perché quello se quello se quello è però ragazzi non ti puoi anche ronaldo non ti puoi ronaldo non ti sei più un giovanotto non ti sei più non ti metti paestra ti metti a paestra a casa ti metti a la piscina rilassante la coi fanghi coa roba coi pattoni ficcare vabbè te che è un corpo che te si una statua vivente ma insomma vabbè vabbè ma ti lasciando ragazzi sta roba qua ma non ti puoi incassarti perché sardi ti fa ti fa sostituire dai per mettere di balla ma dai dopo te te esci te esci incazzato perché vai diretto vai via non partecipi non partecipi neanche non partecipi neanche a stare la in panchina coi tuoi coi tuoi coi tuoi compagni ma dai fianti fianti insai ronaldo dai svegliati svegliati te si a juve te si qua juve non ti si a ramadrid non ti si a ramadrid non ti si a ramadrid ti si a juve te si su un campionato diverso non ti si a ramadrid che ti comandi ti e il gioco ti comandi ti perché perché i tuoi compagni della madrid e correva solo partì e girava il gioco solo partì adesso adesso paratici paratici non so perché il tega tolto ma tega tolto ma non per far gioco perché a sto punto a juve a juve con ronaldo non ha più un gioco oppure il tenta anche di fare un gioco sarri però se vede che non che se non che se coerenza nel giramento di di gioco di palla di 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 velocità di gioco ci sarà qualcosa è fatta anche le tentative anche lui sarri dai impossibile che ti incassi perché o te mandi a quel paese o te ti incassi perché perché vieni te viene sostituito io sarri che ha avuto le ragioni ma se l'allenatore che comanda no ti appunto ma ti ronaldo la che te che te percepisci milioni milioni di schei e dovevi subito a comprendere il gioco da juve anche i giocatori perché va bene che ti sia un leader ma bisogna che ti dimostri che ti sia un leader ma no che te ciappi e te ve via te ve via fuori dal campo e non te partecipi neanche in panchina a te fare che dopo che se ne ha di balla ma se vede che di balla adesso si è più rilassato a creare gioco per i compagni perché 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 vede che quando quattro presenza non trova feeling non trova lui trova quel giocatore che fa differenza ma non è che ti fa differenza perché perché ti senti che non ti si buon fare è solo perché non so se ti si fuori forma T non so se ti si fuori forma T oppure ti si infortuna ti hai qualcosa ti vai fuori tra quattro giorni tranquillo basta ma non state esultare non state fare e farti problemi perché te ne sostituio io ma non sono mica che ti dico ma se neanche altri youtuber che ti dice che Ronaldo che ha fatto tre partite buone e dopo il resto che ha fatto schifo ma se neanche è logico il discorso ma non sei par dirte parole e se parli parli discorso che a Juve non trova non trova un gioco adattabile a te perché colera a Madrid il gioco passava tutto da te a Juve con Sarri bisogna che trovi il sistema per inserirti la roba ma inutile ma inutile ma inutile che anche Sarri bisogna che ti fai giocare un fiantino di più Dugas costa che Dugas costa e spinge spinge ma inutile che ti fai giocare Ronaldo al primo minuto al primo minuto fin fin al cinquantesimo al sessantimo del secondo tempo non ti puoi pretendere che se top 90 minuti Ronaldo bisogna che faccia dei determinati minuti che possa un fiantino rifiatare ma Ronaldo non state a incassare non state a arrabbiare se per caso te l'è fora perché te vedi che non te rendi e ora bisogna proprio che te stai in campo perché te hai bisogno di toccare i più baioni possibili eh punto eh quello è il problema che bisogna che prima che ti rendi conto che te hai un minutaggio di stare in campo fin adesso perché te hai infortunio te hai quello te hai non so perché non so se te hai infortunio se te hai una contusione se te hai qualcosa però bisogna che prima che ti rendi conto che c'è tanti altri esovadori che può fare la differenza non so ti va bene ragazzi questo questo è il mio pensiero non voglio fare voglio dilungarmi tanto questo video qua ragazzi iscrivetevi al canale mettete mi piace commentate e mi raccomando haters haters venite venite c'è posto c'è posto tranquilli c'è posto sotto nei commenti potete potete anche scrivere ma io vi rispondo va bene ma sempre ma sempre con ok con educazione ok per far perdire perché bisogna vedere ma ragazzi ma più haters che vi è meglio se faccio più iscritti manco che se condivisione qualcosa manco che se più più condivisione meglio buon ciao a tutti ragazzi ci sentiamo sempre forse a juve e spegniamo bene ronaldo me raccomando eh buon ciao ragazzi ci sentiamo ciao 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 ciao